Percorso Donna, Lions Club Pesaro della Rovere, Atletica Banca Pesaro e Panatron International Pesaro presentano Libere di Corsa 2021. Domenica 27 giugno una corsa in staffetta su strada per un totale di 8 km sullo spettacolare lungomare di Pesaro in un percorso chiuso al traffico di 2 km per staffettista con assistenza della Croce Rossa Italiana di Pesaro. La partenza è prevista alle ore 9 da Piazzale della Libertà. L'iscrizione è possibile solo in squadra amatoriale con 4 concorrenti e i team possono essere interamente maschili, interamente femminili o misti. Vai sul sito percorsodonna.com, scarica il modulo e invialo compilato a libere di corsa.lions.gmail.com Tutto ricavato dell'iniziativa sarà devoluto a Percorso Donna per il contrasto alla violenza di genere.